Ancora una sconfitta per la Copp Bucine-Valdambra-Valdarno Sporting che certo non sfigura contro la corazzata Campi-Bisenzio, ma una prova importante non basta contro avversari ben più accreditati sotto il profilo tecnico, oltretutto aiutati anche da qualche decisione arbitrale discutibile. Lo Sporting parte bene nel primo quarto e risponde ai singoli attacchi degli ospiti, per poi crollare negli ultimi tre minuti del tempino con Campi che chiude a più 10 a quota 24 punti. E' questo un distacco destinato a durare tanto che prima dell'intervallo si ondeggia da questo fino al meno 5, per poi andare a riposo sul 35 a 42. A rientro il campo è un monologo valdarnese che con 8 punti di fila sigla il sorpasso, primo del match e poi gioca ancora ad ogni singola azione, ma se al minuto 30 è 54-53 per Campi, la svolta è negativa all'espulsione di Tello e di lì in poi non c'è più nulla da fare. Campi-Bisenzio scappa ed è impossibile tenere il passo, finisce 80-71 per gli ospiti ed è la nona sconfitta su 10 gare. E' stata una partita veramente tosta, si giocava contro i primi in classifica, ne avevano perso una o due in tutti i campionati, tutti i giorni d'andata, però non voglio parlare dell'altra squadra, fa complimenti a tutti i ragazzi che stasera da Francesco Tello a Tommaso Benassai, dai più vecchi ai più giovani, hanno dato veramente tutto in campo, hanno dato l'anima e fino a un fondo non si è mai mollato. Purtroppo la classifica per ora parla chiaro, siamo all'ultimo posto con due punti, però questa squadra sta reagendo e siamo sulla buona strada, bisogna continuare a lavorare così, c'è tutto il girone di ritorno e bisogna avere fiducia in noi stessi che poi i risultati arrivano.